Questa è la situazione di via del Fanuccio a Marlia nella parte che corre dietro il supermercato S.Lunga, testimoniata dalle immagini di un residente della zona. Sono numerosi camion che quotidianamente, ingannati dal navigatore e mancanza di una cartellonistica di divieto esaustivo e ben visibile, imboccano la strada per poi ritrovarsi costretti a decine di manovre per tornare sul Viala Europa e proseguire per il Brennero. E probabilmente se c'è il navigatore che lo manda verso Ponta Moriano o qualche altra ditta che è in zona industriale, magari taglia di qui perché vede l'indicazione errata sul navigatore e di conseguenza crea sempre qualche problema. Io abito qui accanto, c'è un muro di cinta, mi hanno tirato giù anche una colonnina. Il cartello di divieto di accesso ai camion all'incrocio con Viala Europa c'è, ma evidentemente non è abbastanza chiaro o abbastanza visibile. Fatto sta che situazioni come quelle filmate durante questi giorni si ripresentano sistematicamente. I residenti, che hanno fatto presente il problema anche al comune di Capannori, sperano che si possa in qualche maniera trovare una soluzione, magari con una segnaletica più chiara e visibile.